Ecco, ora c'è tutto. Pure troppo. Meno male che servivano giusto due cose. Pure la mania del bio ci mancava. Finiremo sull'astrico. Ecco, lo sapevo. Ce l'ha col mio bio. Ma la qualità ci penso io. Anche se forse esagerato. Certo, anche io. Tutte ste merendine. Ma sono por me. E se le riportassi indietro... Ma non finisce mai. Quanto è? 27,50 euro. Sì! Grazie mille. Grazie. Ragazzi, è la vostra spesa.